Abbiamo visto la volta scorsa le formule goniometiche per la somma e sottosene di angoli che adesso riscrivo. Abbiamo visto in particolare il coseno della somma di due angoli, alfa più beta, con alfa più beta a priori qualsiasi, che è data dal prodotto dei coseni, coseno del primo angolo alfa per il coseno del secondo angolo beta, meno il prodotto dei seni, sen alfa per sen beta. Il seno invece della somma, alfa più beta, è dato dal seno del primo angolo, sen alfa per il coseno del secondo, cosen beta, più il seno del secondo angolo, cosen beta, per il coseno del primo, coseno alfa. La tangente di alfa più beta è una frazione dove al numeratore ho la somma delle tangenti, tangente di alfa più la tangente di beta, e al denominatore ho 1, in questo caso meno, il prodotto delle tangenti. la tangente di alfa per la tangente di beta. Ok, questo è il primo set di relazioni che è quello relativo alla somma. La differenza è molto simile a questo, basta cambiare il segno di beta. coseno di alfa meno beta è il coseno di alfa meno beta è il coseno di alfa per coseno di beta, coseno di alfa più sen alfa più sen alfa. il seno della differenza invece, adesso inverto il segno, è sen alfa per coseno di beta, meno sen beta per coseno di alfa. la tangente della differenza inverto i segni sia al numeratore che al denominatore, cioè la tangente di alfa meno la tangente di beta, fratto 1 più il prodotto delle tangenti. Anche questo è tutto quello che ci serve. andiamo per esempio a vedere l'esercizio, volevo proporvi questo, il 494, la pagina 597, che dice calcola per esempio il coseno di 7 dodicesimi di pi greco. Poi, vabbè, altre due funzioni cognometriche che vediamo dopo. Qui la chiave ovviamente è interpretare il 7 dodicesimi in termini di alfa e beta, che è come somma o differenza di angoli. Ok? Io adotterei, vi propongo questa strada. Scusate. 7 dodicesimi di pi greco, possiamo pensarlo come a un 7 che sia un 4 più 3 dodicesimi di pi greco. Per cui abbiamo 4 dodicesimi di pi greco più 3 dodicesimi di pi greco. E quindi 4 dodicesimi è pi greco terza e 3 dodicesimi è pi greco quarto. Ok? Ci sono domande? Quindi il seno, anzi coseno, no, il coseno di 7 dodicesimi di pi greco lo calcoliamo come coseno di pi greco terzi più pi greco quarto. Quindi usiamo la relazione della somma dove al posto di alfa mettiamo pi greco terzi al posto di beta pi greco quarto. in questo lo scriviamo come il prodotto dei coseni coseno di pi greco terzi per il coseno di pi greco quarti meno il coseno della somma e la differenza di due prodotti il prodotto dei segni seno di pi greco terzi per il seno di pi greco quarti. qui ci sono tutti angoli notevoli il coseno di pi greco terzi è un mezzo il coseno di pi greco quarti è radice di due mezzi meno il seno di pi greco terzi è radice di tre mezzi il seno di pi greco quarti è radice di due mezzi da cui abbiamo radice di due fatto quattro meno radice di sei quattro se volete possiamo scriverlo come una frazione unica una radice di sei quattro poi l'esercizio continua proponendo questa è la se volete la parte A per l'esercizio parte iniziale che poi c'è nel quesito B dice fatemi il seno di tredici dodicesimi pi greco seno così calcola il seno di tredici dodicesimi pi greco ok cosa possiamo fare beh anche qui ragioniamo in termini di somma o differenze di angoli d'accordo? potremmo le strade sono tante non è una sola qui potremmo pensare per esempio a tredici come dodici più uno ok proviamo questa dai immaginiamo tredici dodicesimi di pi greco come 12 più uno fratto 12 pi greco ora il 12 diviso 12 da 1 quindi da un pi greco più pi greco dodicesimi ok quindi possiamo più usare gli angoli associati cioè il seno di tredici dodicesimi di pi greco possiamo immaginarlo come il seno di pi greco più pi greco dodicesimi ok che quindi essendo angoli che differiscono nell'angolo piatto rispetto a pi greco dodicesimi questo varrà meno il seno di pi greco dodicesimi d'accordo? ora siamo tutto sommato al punto di partenza perché i greco dodicesimi è un angolo che non è tra quelli notevoli che avevamo già visto quindi anche questo è un'altra cosa quindi anche questo è un'altra cosa interpretarlo in termini di somma o differenza di angoli beh sarebbe utile avere un numeratore qui abbiamo fatto il mio riscrivere qua sotto quindi adesso siamo ricondotti a calcolare questo numero pi greco dodicesimi o meglio ancora un dodicesimo di pi greco possiamo immaginarlo come in questa fase una differenza di due angoli scegliendo tra due numeri che siano dei sottomultipli di 12 cioè per i quali possiamo fare una semplificazione lo direi il 4 e il 3 quindi possiamo pensarlo come 4 meno 3 dodicesimi di pi greco un po' come prima abbiamo fatto quel 7 dodicesimi 7 alla 4 più 3 1 posso pensarlo come 4 meno 3 perché proprio 4 e 3? perché 4 e 3 sono sottomultipli semplici di 12 ok? potevo anche prendere che ne so potevo prendere 5 e 6 cioè 6 meno 5 in teoria sì in pratica no non sarebbe stato utile perché 5 non è sottomultipo di 12 6 sì ma 5 no quindi non mi sarebbe stato di grande aiuto in questo caso invece riesco a venire fuori quindi questo lo interpreto come 4 dodicesimi di pi greco meno 3 dodicesimi di pi greco cioè 4 dodicesimi mi rimane pi greco terzi meno 3 dodicesimi di pi greco quarti ok? e quindi sono ricondotto ripeto a calcolare il seno di facciamo perdere per adesso il segno meno pi greco dodicesimi lo penso come il seno di pi greco terzi meno pi greco quarti ho il seno della differenza quindi il seno del primo per il coseno del secondo quindi il seno di pi greco terzi per il coseno di pi greco quarti meno il seno di pi greco quarti per il coseno di pi greco terzi quindi qui abbiamo radice di 3 mezzi per radice di 2 mezzi meno radice di 2 mezzi per un mezzo quindi abbiamo radice di 6 quarti questo però attenzione è il seno di pi greco dodicesimi a noi interessa meno il seno di pi greco dodicesimi quindi ripercorriamo un attimo la strada appena fatta abbiamo visto che quindi dobbiamo calcolare il seno di 13 dodicesimi di pi greco abbiamo scomposto il 13 come il 12 più 1 quindi questo è meno il seno di un dodicesimo di pi greco che quindi vale come meno il seno di pi greco terzi meno pi greco quarti e quindi è meno radice di 6 quarti meno radice di 2 quarti cioè meno radice di 6 quarti più radice di 2 quarti o se preferite radice di 2 meno radice di 6 tutto diviso 4 c'è ancora una funzione coniometrica da calcolare ditemi quando siete pronte ci sono domande fin qui era possibile un'altra strada? sì potremmo per esempio pensare a 13 come 7 più 6 certo ancora? non c'è sempre solo una strada alcune sono più semplici di altre devo trovare una strada che mi permette di utilizzare degli angoli notevoli che conosco oppure che ho calcolato in precedenza abbiamo anche l'ultima parte la parte C l'esercizio che chiedeva la tangente di 7 dodicesimi quanto vale la tangente di 7 dodicesimi di pi greco beh qui in realtà il percorso è abbastanza semplice come abbiamo fatto prima abbiamo già utilizzato 7 dodicesimi della parte A era questa eccola qua quindi 7 dodicesimi possiamo interpretarlo come pi greco terzi più pi greco quarto l'abbiamo appena visto non sarebbe che farlo no? quindi la tangente di 7 dodicesimi di pi greco vale quanto la tangente di pi greco terzi più pi greco quarto qui ho la tangente della somma di due angoli quindi questa sarà una frazione dove al numeratore ho la somma delle due tangenti quindi la tangente di pi greco terzi più la tangente di pi greco quarto e al denominatore ho 1 meno il prodotto delle due tangenti quindi la tangente di pi greco terzi per la tangente di pi greco quarto pi greco terzi e pi greco quarti sono due angoli notevoli tangente di pi greco terzi è radice di 3 la tangente di pi greco quarti è 1 quindi il denominatore avrò 1 meno radice di 3 per 1 quindi ho radice di 3 più 1 fratto 1 meno radice di 3 ora il il testo mai e poi mai vi darà un risultato di questo tipo perché? perché è un denominatore irrazionale bisogna razionalizzare la frazione ok? non che cambi il valore ma normalmente i risultati si ottengono sempre in forma razionalizzata quindi partiamo da questa espressione di 3 più 1 fratto 1 meno radice di 3 e razionalizziamo cioè facciamo in modo che il denominatore sia senza radice per fare questo usiamo una strategia semplice che abbiamo già visto all'epoca in cui abbiamo studiato i radicali se al denominatore di questa frazione ho due termini di cui uno è un numero razionale quindi non c'è la radice e l'altro numero irrazionale ha le radici il modo più semplice per togliersi di tono le radici è utilizzare i prodotti notevoli se qui ho una differenza primo termine meno il secondo per fare in modo che la radice sparisca dovrei fare in modo che questo poi venga elevato alla quadrata per cui sfrutti il prodotto notevole a più b per a meno b che mi darà a alla seconda meno b alla seconda nel caso nostro a vale 1 e radice di 3 è b per cui dopo a destra avrò 1 alla seconda che fa 1 meno radice di 3 alla seconda che fa 3 però non posso alterare il valore della frazione quindi se per avere questa espressione quindi senza radice mi serve questo fattore quindi qui la differenza devo moltiplicare per la somma fatemelo scrivere qua sotto quindi il denominatore ho 1 meno radice di 3 e sopra c'è radice di 3 più 1 devo moltiplicare il denominatore per 1 più radice di 3 però devo farlo anche sopra perché altrimenti cambio il valore della frazione invece la proprietà invariantiva delle frazioni mi dice guarda puoi moltiplicare o dividere il numeratore e il denominatore per lo stesso numero e il risultato della frazione è lo stesso quindi facendo così ripeto al denominatore mi ritrovo con 1 meno radice di 3 per 1 più radice di 3 che poi mi darà il quadrato del primo che è 1 meno il quadrato del secondo che è 3 quindi la radice va via al numeratore ho radice di 3 più 1 per 1 più radice di 3 cioè 1 più radice di 3 alla seconda al denominatore 1 meno 3 fa meno 2 e al numeratore ho il quadrato del primo 1 più il doppio prodotto 2 radice di 3 più il quadrato del secondo che è 3 quindi per gli amici 3 più 1 che fa 4 più 2 radice di 3 tutto fratto meno 2 ora al numeratore abbiamo 4 e 2 radice di 3 entrambi multipli di 2 quindi posso raccogliere un 2 2 più radice di 3 fratto meno 2 2 fratto meno 2 fa meno 1 quindi ho meno 2 meno radice di 3 questa è la forma in cui il testo normalmente vi da il risultato quella razionalizzata non cambia il valore però è espressa in modo tale che se ci sono frazioni non hanno radice del denominatore ditemi se è tutto chiaro quindi bisogna un pochettino riesumare quanto abbiamo visto l'anno scorso sui radicali per utilizzare la tecnica di razionalizzazione perché? perché se non lo fate quando fate un esercizio andate a vedere il risultato sul libro non vi verrà mai uguale anche se l'esercizio è corretto il risultato è diverso cioè se io mi fermassi qui e vado a vedere quello che dice il libro il libro non mi dirà mai questo quindi avrò l'impressione che il risultato sia sbagliato invece per la realtà non è sbagliato solo che non è razionalizzato d'accordo? è tutto chiaro? proviamo a cambiare tipo di esercizio se questo è un altro problema immaginiamo di fare vediamo se fatemi un po' filmare proviamo questo semplificare l'espressione prendiamo questa per esempio l'esercizio 499 pagina 597 dice semplifica questa espressione il seno di parentesi pi greco terzi più x dove x è un angolo ignoto più il coseno di pi greco sesti più x semplifica semplifica questa espressione anche qui è sufficiente applicare le due relazioni che abbiamo visto prima il la somma il seno della somma e il coseno della somma di due angoli qui al posto di alfa o pi greco terzi al posto di beta o x poco importa come si chiama l'angolo e quindi ci verrà un'espressione finale probabilmente che conterà o il seno o il coseno di x ok vediamo di semplificarlo allora dalla prima seno della somma abbiamo seno del primo per coseno del secondo più seno del secondo coseno del primo quindi abbiamo seno di pi greco terzi per coseno di x più il seno di x per il coseno di pi greco terzi questo viene da qua ok poi abbiamo più il coseno della somma prodotto dei coseni meno prodotto dei seni coseno di pi greco terzi quindi coseno di pi greco terzi per coseno di x meno semplificare i cosesti se di x ecco questo due termini vengono dal coseno ok abbiamo alcuni angoli notevoli sostituiamo il valore semplifico terzi e radici di tre mezzi per coseno di x coseno di pi greco terzi coseno di pi greco terzi è un mezzo quindi più un mezzo sen x più coseno di pi greco terzi radici di tre mezzi ancora per coseno di x meno coseno di pi greco terzi che fa un mezzo per sen x allora un mezzo sen x meno un mezzo sen x da zero se possono essere cancellati e radici di tre mezzi coseno di x più se stesso fa il doppio di radici di tre mezzi coseno di x quindi radici di tre coseno di x e l'esercizio è concluso tutto chiaro vediamo di se possiamo trovare un altro per esempio uno con la tangente di 508 stessa pagina che dice tonda radici di tre per tangente di alfa meno uno chiusa tonda per per la tangente di alfa più pi greco terzi e ancora più radici di tre ci chiedono di semplificare queste espressioni allora qui nella prima parentesi beh c'è ben poco da fare perché tangente di alfa è quello che è invece tangente alfa più pi greco terzi possiamo usare la formula della tangente della somma al posto di questa possiamo usare la tangente della somma cioè la tangente di alfa più la tangente di pi greco terzi fratto uno meno tangente di alfa per la tangente di pi greco terzi che è radice di tre quindi ci ritroviamo con questo la riscrivo radice di tre tangente di alfa meno uno per la tangente di alfa più radice di tre fratto uno meno radice di tre per tangente di alfa più radice di tre ok ci sono domande se adesso osservate il denominatore di questa frazione è parente stretto di questa parentesi sono opposte quindi potrei mettere per esempio possiamo scrivere in questo modo mettiamo raccogliamo qui un meno e questo diventa uno meno radice di tre tangente di alfa l'altra la riscrivo adesso queste due sono semplificabili nell'ipotesi ovviamente che uno meno radice di tre tangente di alfa non sia zero ok cioè se alfa qui andrebbe specificato se alfa non è pi greco sesti perché se alfa è pi greco sesti il denominatore di questa frazione è nulla questo è seccando in quest'ipotesi dalla frazione mi rimane solo il numeratore quindi la tangente di alfa più radice di tre ok con un meno davanti quindi ho meno qui e meno qui non dobbiamo dimenticarcelo questo meno e poi mi rimane più radice di tre le due radici vanno via perché sono una apposta all'altra morale della favola vale meno con gente di alfa e l'esercizio è concluso volendo si poteva anche operare in modo più semplice una volta che uno ha questa espressione si poteva dire benissimo questa parentesi è opposta a questa quindi se le semplifico mi rimane meno uno un'espressione e il suo opposto danno come rapporto meno uno se no si raccoglie un meno come preferito il senso è sempre quello ok vediamoci troviamo ancora qualche esercizio ora ricambiamo pagina anche questo è molto simile precedenti ma sapendo che il coseno di alfa vale 3 quinti e che alfa è nel primo quadrante quindi a tutte le funzioni conometriche positive troviamo quanto vale il seno di pi greco terzi meno alfa ok ora qui abbiamo il seno della differenza quindi possiamo usare le formule per la differenza quindi abbiamo il seno di pi greco terzi meno alfa che possiamo scrivere come il seno di pi greco terzi per il coseno di alfa meno il seno di alfa per il coseno di pi greco terzi cioè radici di 3 mezzi per coseno alfa meno un mezzo sen alfa qui però quindi abbiamo qui due grandessi incognite una ce la danno coseno alfa e tre quinti ci manca sen alfa quindi qui abbiamo coseno alfa che è tre quinti bisogna determinare il seno di alfa se alfa è nel primo quadrante tutte le sue funzioni conometriche sono positive quindi il seno di alfa possiamo prenderlo come più radice di uno meno coseno al quadro di alfa questo più è legato al fatto che siamo nel primo quadrante quindi abbiamo radici quadrata di uno meno tre quinti alla seconda uno meno nove venticinquesimi cioè quattro quinti 25 meno fa 16 radici di 16 4 4 quattro quinti di conseguenza la nostra espressione fa copiare quindi il seno di y terzi se non ricordo male meno alfa vale radici di tre mezzi per il coseno di alfa che è tre quinti meno un mezzo che è quattro quinti per quattro quinti scusate quindi tre volte radice di tre decimi meno quattro decimi oppure se preferite il denominatore comune è dieci tre radici di tre meno quattro qui non razionalizzo perché il denominatore non ha le radici quindi me lo tengo così ok se ci avessero detto che per esempio alfa è non nel primo quadrante ma poteva essere nel secondo a domanda poteva essere che alfa era nel secondo quadrante sì no non so con i dati dell'esercizio alfa poteva cadere nel secondo no perché perché nel secondo quadrante il coseno sarebbe stato negativo se ho un coseno positivo l'angolo alfa può cadere in due quadranti o nel primo o nel quarto se cadeva nel quarto quadrante cioè tra tre mezzi pi greco e due pi greco allora in quel caso il seno sarebbe stato negativo quindi usavo il meno ok così come se mi avessero detto che il coseno di alfa è meno tre quinti non poteva essere nel primo poteva essere nel secondo o nel terzo ok quindi qui avremmo avuto il segno opposto quindi avremmo avuto più quattro dec ok questo chiude quella parte vediamo cos'altro possiamo provare a fare non riesco a scorrere le ponte anche qui non riesco a fare una prossima volta che ne dite ma sì proviamo questa per cambiare tipo 522 ci da un triangolo acutangolo dove ci dice che questo angolo si chiama alfa questo si chiama beta e quest'angolo misura 30 gradi ci dice che il coseno di alfa vale un quarto quindi non è un angolo notevole e ci chiede di determinare la tangente di beta ok alfa e beta sono ignoti va bene sappiamo solo che alfa è un quarto qui non ha senso trovarsi alfa perché alfa non sarà un angolo notevole quindi se trovo alfa devo approssimare è molto meglio usare le forme goniometriche che conosciamo questo è 30 gradi allora la tangente di beta come la troviamo? beh piuttosto che pi greco 30 gradi io userei il racchianto mi trovo meglio è pi greco sesto ok lo sappiamo che alfa più beta più il terzo angolo che è pi greco sesti deve fare pi greco 180 gradi la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi ok quindi da qui possiamo esprimere beta in funzione del resto abbiamo che beta posso pensarlo come pi greco meno pi greco sesti meno alfa quindi la tangente di beta la trovo cercando la tangente di pi greco meno pi greco sesti meno alfa qui posso raggruppare il segno meno e quindi pensare alla tangente di pi greco meno pi greco sesti più alfa ok e qui posso usare gli angoli associati se pi greco sesti più alfa lo penso come in tutt'uno allora il pi greco meno un angolo ha una tangente che è uguale a meno la tangente di quell'angolo in questo caso pi greco sesti più alfa ok quindi mi riconduco a calcolare la tangente della somma di due angoli quindi abbiamo la tangente di pi greco sesti più alfa che è la somma della tangente di pi greco sesti più la tangente di alfa tratto 1 meno il prodotto tra la tangente di pi greco sesti e la tangente di alfa la tangente di pi greco sesti è radice di 3 terzi quindi ho radice di 3 terzi più la tangente di alfa fratto 1 meno radice di 3 terzi per la tangente di alfa ok però ultimo punto da trattare è il fatto che io non conosco la tangente di alfa conosco solo il coseno di alfa ok come trovo la tangente se conosco il coseno beh la tangente di alfa è il seno di alfa fratto il coseno di alfa se torniamo un attimo alla figura ho a che fare solo con angoli acuti come sembra dalla figura alfa essendo un angolo appunto avrà coseno seno e tangente tutti e tre positivi quindi qui posso prendere il coseno di alfa lo lascio dov'è più gradice quadrato di 1 meno il coseno al quadrato di alfa c'era un quarto quindi un sedicesimo il coseno di alfa non so quanto vale quindi qui ho un quarto denominatore fatemi controllare che non dico una stupidaggine sì un quarto e al numeratore ho radice quadrata di 1 meno un sedicesimo quindi avrò un quarto denominatore qui ho 15 sedicesimi quindi radice di 15 quarti fratto un quarto cioè radice di 15 i due e un quarto ci semplificano e quindi dov'è la tangente di alfa posso mettere radice di 15 ok di conseguenza torniamo al nostro problema la tangente di beta che era quello che ci chiedevano di calcolare che vale meno la tangente di più greco sexto più alfa che vale quindi meno su cui abbiamo trovato radice di 3 terzi più la tangente di alfa che è radice di 15 fratto 1 meno radice di 3 terzi per radice di 15 vediamo adesso come possiamo semplificare questa espressione qui abbiamo possiamo fare qualcosa al denominatore di 3 terzi più radice di 15 le due radici possiamo metterle insieme 15 è 5 per 3 quindi abbiamo 3 per 3 per 5 e il 3 denominatore possiamo portarlo sotto radice che diventa 9 fatemi cancellare questo e il 9 semplifica il 2 3 quindi al denominatore mi ritrovo con meno 1 meno radice di 5 e sopra radice di 3 terzi più radice di 15 radice di 15 qui possiamo eventualmente anche qui scrivere questo radice di 3 terzi più radice di 15 posso pensarlo come radice di 3 per radice di 5 quindi radice di 3 posso raccogliere al fattore comune avrò quindi un terzo più radice di 5 e qui è sufficiente razionalizzare il denominatore cioè moltiplicare per 1 più radice di 5 per 1 più radice di 5 una frutta di 15 d'accordo? mi sa che mi fermo qui lascerò completo l'esercizio più tardi vi lascio da completare l'esercizio come esercizio da prestata sonata grazie attenzione alla prossima